Vendine box Vendine box Stai in una scatola è un po' duro Facciamo questo genere di musica che è sempre musica Utilizziamo le nostre corde vocali l'unico nostro strumento Siamo poveri non abbiamo i sogni per fare gli strumenti Così Lui sostiene visto che è il più grosso del gruppo che se siete un po' in difetto dice l'effetto albero del Natale non è evoluto ma vabbè concedetecelo e io penso la notale for tempo TURUBA DUBAI TURUBA DUBAI DUBAI TURUBA DUBAI ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.